Il ricordo più brutto è quello di Madonna di Campiglio dove l'hanno estromesso dal Giro d'Italia in maniera clamorosa Secondo me aveva questa doppia personalità, molto preciso nella competizione e poi dall'altra parte invece quando era nella vita normale era tutto un altro ragazzo Cercava sempre la perfezione su qualsiasi bicicletta che lui usava Ciao a tutti ragazzi del capitano di Peeventi del Pendro, oggi siamo qui a Pedemonte di Valpolicella con un ospite veramente raro Bruno Livieri eccolo qua, attualmente lavora in un'officina, in un'officina di famiglia possiamo dire Ed è anche stato il meccanico del capitano per sette anni per la mia breve carriera però c'è un punto che è veramente speciale È stato soprattutto, cosa veramente eccezionale, il meccanico di Marco Pantani, il pirata Però ragazzi non voglio più rubarvi tempo, questo qua sarà un video veramente serio e prezioso e passiamo subito all'intervista con il nostro amico Bruno Livieri Allora, presentati un attimo, spiegaci chi sei, cosa fai adesso nella vita e cosa hai fatto Ciao, sono Bruno, sono un ragazzo che ha corso in bicicletta per un po' di anni, ho un negozio di bici Quando ho smesso di correre naturalmente mi sono aperto questo negozietto con mio papà E nel frattempo sono diventato anche il meccanico di Marco Pantani Per quanti anni sei stato al suo fianco? Ho fatto circa dieci anni Quando sei diventato un meccanico tra i professionisti, quindi nella categoria di alto livello e poi di conseguenza di Pantani? Ma era il 94, mi ricordo bene, la carriera aveva bisogno di un meccanico Quintarelli che era allora il direttore sportivo è passato dal mio negozio Ci ha chiesto se uno di noi due o io o mio papà potevamo andare a fare il giro della Sicilia e sono partito io E poi quando è che ti è arrivata la proposta, vuoi fare il meccanico di Pantani? Come ti sei sentito? Eri impreparato? Ti sentivi già sicuro? Ma ti dicevo, quando sono partito lì avevo tante speranze Poi nel 94 quando sono arrivato in Sicilia mi sono comportato bene, ho lavorato bene Ascoltavo tutti i meccanici quelli più anziani e quindi mi sono fatto un po' vedere E poi ho avuto la fortuna di lavorare con questo ragazzino che era appena passato professionista E era Marco Pantani e da lì in poi ho sempre seguito dove andava lui, ci sono sempre andato dietro Ma Marco per te cos'era? Era un semplice amico, un corridore come gli altri Quindi non cambiava niente che sia Marco un altro corridore Si comportavano tutti nella stessa maniera, te ti comportavi con loro nello stesso modo Cos'era per te? No, Marco secondo me era un ragazzo con la doppia personalità Era un ragazzo molto molto preciso, molto serio Che ti metteva anche in soggezione durante le gare perché voleva essere sempre con il materiale e la bicicletta a posto Mentre poi nella vita privata era un ragazzo veramente splendido dove ti dava tutto Ti faceva scherzare Umile Umile, ti metteva proprio agio Se andavi in qualche locale non c'era nessun problema Quindi secondo me aveva questa doppia personalità Molto preciso nella competizione dove esigeva la perfezione E poi dall'altra parte invece quando era nella vita normale era tutto un altro ragazzo Qua mi dicevi riguardo all'essere puntigliosi Una volta a Terracina è successo qualcosa di particolare Ma sì ecco per dire a Terracina mi ricordo bene Eravamo là in ritiro che stavamo preparando il materiale per la stagione E a un certo punto gli portano le biciclette da cronometro E mi ricordo bene che lui è salito sulla bicicletta a cronometro che gli avevano preparato Ha fatto 200 metri Ha detto io con questa bicicletta qua non ci corro Perché non ha le angolazioni che gli ho richiesto Cioè in un poco tempo riuscivo a capire che non era una bicicletta adatta per lui Questo ragazzi rappresenta la sua professionalità quindi ad essere preciso Era molto preciso Pignolo cercava sempre la perfezione su qualsiasi bicicletta che lui usava Si accorgeva subito se per caso c'era qualcosa che non andava nel telaio Se c'era un millimetro magari l'asse del movimento centrale un po' più largo Lui si accorgeva subito era veramente professionale Ricordo più bello e più brutto che hai con lui Beh naturalmente il ricordo più brutto è quello di Madonna di Campiglio Dove l'hanno estromesso dal Giro d'Italia in maniera clamorosa Poi si può anche la Milano-Torino dove naturalmente anche lì l'incidente in macchina Dove si è rotto la tibia e lì veramente sono stati dei periodi veramente tosti Naturalmente il momento più bello è stato la vittoria del Tour de France nel 98 E te dove eri? In Ammiraglia? Ma io a quel periodo là ero sulla Ammiraglia Facevo il secondo perché il meccanico primo era veneziano Però ho partecipato in maniera attiva anch'io a vincere il Tour nel 98 Ma per quanto riguarda i momenti più brutti Te eri come il massaggiatore per esempio Che è una figura importante per l'atleta Non solo per quanto riguarda il massaggiare le gambe Ma essere anche a suo fianco Fargli sentire la presenza lì L'aiuto a livello morale Te eri qualcosa per Marco? Ma sì certo Ogni tanto mi confidava le sue cosine Nella sua vita privata Io cercavo di confortarlo E dicevo dai Marco tieni duro Non preoccuparti Poi quando vai a casa vedrai che si risolve tutto Cioè è un ragazzo normale alla fine Non aveva niente di speciale Non se la tirava diciamo No era veramente umile Veramente un ragazzo d'oro Un ragazzo veramente eccezionale Avendo la sua performance nelle tue mani La sua bici Avevi tanta pressione O per te era una roba molto semplice E eri sciolto? Logico che un po' di pressione Un po' di ansia durante la gara Te la dà Perché un conto è perdere 10 secondi Magari con un atleta di non classifica Hai un conto invece perdere 10 o 20 secondi Per colpa del meccanico Che non riesce a fare il lavoro bene Logico che la tensione c'è Però poi anche se succedeva qualche problemino Di quel tipo lì Lui era talmente grande Che ti diceva Stai tranquillo che non è successo niente Quanti giri e tour hai fatto E quali sono stati i momenti più belli che hai vissuto? In breve Beh allora ho fatto tre giri d'Italia Tre tour de France E due vuelta de Spagna Diciamo che il giro d'Italia Nel 98 sono stati i momenti più esaltanti Anche se poi Quando vinci all'Alpe 2S Che vinci quel tipo di gare lì Comunque sono giornate importanti Qualche aneddoto E qualche momento divertente con Marco Non so Una serata in discoteca Qualcosa fuori dalla carriera ciclistica Beh allora Aneddoti ce ne sono tanti Per quanto riguarda il suo modo di fare Per dire Mi ricordo eravamo a un tour de France Alla vigilia di una cronometro Siamo stati lì tutto il giorno A lavorare sulla posizione E tre minuti prima della partenza Della cronometro Mi ha chiamato di brutto E ha alzato la sella Di 3-4 cm Ecco questa è una cosa Che solo lui poteva fare Perché Lavorano sul millimetro E questo qua Prima di partire A un certo punto Ha alzato la sella Così di punto in campo Un'altra cosa invece divertente Per dire Che mi è successo Siamo andati in discoteca insieme A un certo punto Io ero un po' Un po' fuori Diciamo E il butta fuori Mi fa Guarda che non sei più credito In questa discoteca A un certo punto Mi stanno accompagnando fuori E incrocio Marco Gli faccio Marco Mi vogliono portare fuori Lui ha parlato Con il butta fuori A un certo punto Il butta fuori Viene lì da me E mi fa Oh se conosci Marco Puoi fare quello che vuoi Allora Come è cambiata La tua vita Quando è finita la carriera di Marco E cos'è Che ti ha lasciato Marco Dentro di te Che te lo porti dentro tuttora Ma allora Naturalmente Avendo conosciuto Avendo avuto la fortuna Di conoscere Forse il più grande Di tutti i tempi Per quanto riguarda Il ciclismo moderno Ma ha lasciato Che anche a livello lavorativo Ha avuto Un incremento Di lavoro Un lavoro notevole Merito suo Beh la mia carriera Logico che è cambiata in meglio Perché mi ha insegnato tantissimo Mi ha insegnato L'educazione Mi ha insegnato Aver rispetto Sempre Comunque anche Quando lavori Con altra gente Altri corridori Da aver sempre rispetto Con loro Cioè mi ha insegnato Di essere una persona umile Come era lui Ma quando hai finito Di fare il meccanico Per evidenti motivi Con lui Dopo hai continuato A farlo In altre squadre O basta Hai deciso Di metterci una pietra sopra No Ho deciso di metterci Una pietra sopra Perché senza di lui Mi è venuto a mancare Come posso dire Mi è venuto a mancare Il vero ciclismo Il vero ciclismo Mi è venuto a mancare qualcosa Mi sono sentito Anch'io Derubato Di qualcuno Di qualcosa Di veramente eccezionale Ultima domanda Tuttora Vengono ancora A trovarti dei fan E ti fanno rivivere I tuoi momenti Con Pantani Sì è incredibile Tuttora Marco Vive nel cuore Della gente Quasi tutti i giorni Ho dei ragazzi Ho addirittura Mi dicevi anche l'altro giorno Che ora che abbiamo fatto La pagina Instagram Facciamo qualcosa di divertente Che è venuto uno Da distante Mi dicevi Per vedere le maglie di Marco Sì È arrivato da Jesolo Per vedere le maglie Ha fatto le foto Con le maglie di Marco Quelle che ho qua Nel negozio E quindi ancora Tuttora Marco Vive nei cuori Della gente E io sono molto Orgoglioso Di aver fatto parte Del suo mondo Bene ragazzi Che dire Interviste finita Spero che sia un qualcosa Di veramente valoroso Di veramente significante Per voi Niente ci vediamo In un prossimo video Del Capitano Grazie mille Bruno E ciao a tutti Maimolar Grazie Maimolar